Mondadori presenta Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la maledizione del Titano, di Rick Riordan, legge Moreno Di Sepp. Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la maledizione del Titano, Atoffer Bradfield, un ragazzo del campo che ha fatto un mondo di differenza. La mia operazione di salvataggio finisce parecchio male. Il venerdì prima dell'inizio delle vacanze invernali, mia madre mi preparò un borsone con il necessario per la notte e un paio di armi micidiali e mi portò in un collegio nuovo. Lungo la strada passammo a prendere le mie amiche Annabeth e Talia. Bar Harbor, nel Maine, era a otto ore di macchina da New York. Neve e pioggia ghiacciata battevano l'autostrada. Io, Annabeth e Talia, non ci vedevamo da mesi, ma fra la tormenta e il pensiero di quello che stavamo per fare, eravamo troppo nervosi per parlare granché. La mamma, no. Quando è nervosa, lei parla di più. Finalmente arrivamo a Westover Hall mentre stava facendo buio e lei aveva già raccontato ad Annabeth e Talia ogni imbarazzante aneddoto della mia infanzia. Talia pulì il finestrino con la mano e sbirciò fuori. «Oh, fantastico! Sarà divertente!» Westover Hall sembrava il castello di un cavaliere malvagio. Era di pietra nera, con torri, feritoie e un enorme portone di legno. Si ergeva in cima una collina innevata, tra una grande foresta coperta di ghiaccio da un lato e l'oceano grigio che ribolliva dall'altro. «Sei sicuro che non vi devo aspettare?» chiese mia madre. «No, grazie, mamma», risposi. «Non so quanto ci vorrà. Ce la caveremo. Ma come tornerete a casa? Sono un po' preoccupata, Percy. Sperai di non arrossire. Era già abbastanza umiliante dover dipendere da un passaggio di mia madre per andare a combattere le mie battaglie. «Non c'è problema, signora Jackson», Annabeth sorrise, rassicurante. «Aveva i capelli biondi infilati in un berretto di lana e gli occhi grigi dello stesso colore dell'oceano. Lo terremo fuori dai guai.» «Mamma, sembrò rilassarsi un poco. Pensa che Annabeth sia la semidea più assennata che abbia mai varcato la soglia della terza media. È sicura che spesso sia lei a impedirmi di farmi ammazzare. Ha ragione, ma questo non vuol dire che la cosa debba piacermi per forza.» «Bene, ragazzi», esclamò mia madre. «Avete tutto quello che vi serve?» «Sì, signora Jackson», rispose Talia. «Grazie per il passaggio. Maglioni di ricambio? Il mio numero di cellulare? Mamma? Il tuo nettare e la tua ambrosia, Percy? E una dracma d'oro per contattare il campo in caso di bisogno? Mamma, dai! Staremo bene!» «Andiamo, ragazze.» «Sembrò restarci un po' male e mi dispiaceva, ma dovevo proprio scendere da quella macchina. Se mia madre avesse raccontato un'altra storia su quanto fossi carino a tre anni nella vasca da bagno, ero pronto a scavarmi la fossa nella neve e morire assiderato. Annabeth e Talia mi seguirono. Le raffiche di vento sul giaccone erano come pugnalate di gelo. Quando la macchina della mamma sparì in lontananza, Talia commentò «Tua madre è forte, Percy.» «Sì, non è male.» «Ammisi.» «E la tua com'è? Vi sentite mai?» Mi pentì subito della domanda. Talia era bravissima a scoccare occhiatacce. Sarà stato per via di quei vestiti da punk, il giaccone militare strappato, i pantaloni di pelle nera e le catene. Oppure per l'eyeliner nero e quegli intensi occhi blu. Ma l'occhiataccia che mi lanciò in quel momento era da dieci elode. «Se fossero affari tuoi, Percy...» «Meglio che entriamo», ci interruppe Annabeth. «Grover ci starà aspettando.» Talia guardò il castello e rabbrividì. «Hai ragione. Mi chiedo cosa abbia trovato qui che possa averlo spinto a mandarci l'SOS.» Scrutai le torri scure di Westover Hall. «Niente di buono.» Indovinai. Il portone di quercia si aprì con un gemito e noi tre ci infilammo in un mulinello di neve. L'unica cosa che riuscì a dire fu... «Cavolo!» Quel posto era enorme. Le pareti erano rivestite di stendardi e vetrine piene di armi, fucili d'antiquariato, asce di guerra e un sacco di altra roba. «Intendiamoci, sapevo che Westover era una scuola militare, ma a guardare quelle decorazioni... c'era da restarci secchi.» «Letteralmente.» Mi infilai distinto la mano nella tasca, dove tenevo la mia micidiale penna a sfera. Vortice. Percepivo già che c'era qualcosa di sbagliato in quel posto, qualcosa di pericoloso. Talia si accarezzava il braccialetto d'argento, il suo oggetto magico preferito. Sapevo che stavamo pensando la stessa cosa. C'era uno scontro in arrivo. Annabeth cominciò a dire... «Chissà dove...» Il portone si richiuse alle nostre spalle con un tonfo. «Ok», borbottai. «Immagino che ci fermeremo per un po'. Sentivo una musica riecheggiare in fondo all'atrio. Sembrava un pezzo dance. Nascondemmo i borsoni dietro una colonna e ci avviamo da quella parte. Non avevamo fatto molta strada quando udì dei passi sul pavimento di pietra e un uomo e una donna ci sbarrarono la strada sbucando dall'ombra. Entrambi, coi capelli grigi e corti, indossavano delle uniformi nere in stile militare, con le guarnizioni rosse. La donna aveva un paio di baffetti sottili, mentre lui era perfettamente sbarbato, cosa che mi sembrò piuttosto singolare. Camminavano entrambi in modo molto rigido, come se avessero una scopa legata alla schiena. «Ebbene?» domandò la donna. «Che ci fate qui?» A questo non avevo pensato. Mi ero concentrato così tanto sull'obiettivo di raggiungere Grover e scoprire quale fosse il problema, che non avevo considerato che qualcuno potesse interrogare tre ragazzi che si introducevano nella scuola di notte. In macchina non avevamo parlato di come saremmo entrati. Risposi «Signora, siamo solo...» «Ah?» scattò l'uomo, facendomi trasalire. «Non sono messi i visitatori al ballo?» «Jetiamoli fuori!» Parlava con un accento straniero, francese forse. Pronunciava la G come la G di Jacques. Era alto, con una faccia da falco. Quando parlava, allargava le narici così tanto che dovevi sforzarti per non fissargli il naso. E gli occhi erano di due colori diversi, uno marrone e uno azzurro, come quelli di un gatto randagio. Io mi vedevo già scaraventato fuori nella neve, ma Talia fece una cosa stranissima. Schioccò le dita. Il suono fu nitido e forte. Magari era la mia immaginazione, ma mi sembrò che una raffica di vento si sprigionasse dalla sua mano e si spandesse per la stanza, avvolgendoci e facendo frusciare gli stendardi alle pareti. «Oh, ma noi non siamo visitatori, signore!» esclamò Talia. «Noi veniamo a scuola qui, ricorda?» «Io sono Talia e questi sono Annabete Persi. Siamo al terzo anno!» L'insegnante socchiuse gli occhi bicolore. Non sapevo cosa avesse in mente la mia amica. Adesso, con ogni probabilità, prima ci avrebbero puniti per la bugia e poi ci avrebbero gettati nella neve. Ma l'uomo sembrò esitare. Guardò la collega. «Signora Gessette, conosce questi studenti?» Nonostante il pericolo che stavamo correndo, dovetti mordermi la lingua per non scoppiare a ridere. «Un insegnante che si chiamava Gessette?» «Quell'uomo aveva voglia di scherzare!» La donna strizzò le palpebre, come se qualcuno l'avesse appena risvegliata da un incantesimo. «Io... sì, credo di sì, signore!» Ci guardò con la fronte aggrottata. Annabeth. Talia. Percy. Che ci fate fuori dalla palestra? Prima che potessimo rispondere, udì degli altri passi. E Grover comparve. Anzi, mante. «Ce l'avete fatta! C'è...» Si bloccò non appena vide gli insegnanti. «Oh, professoressa Gessette! Dottor Thorne! Io... ehm...» «Che succede, Underwood?» Chiese l'uomo. Dal tono, era evidente che detestava Grover. «In che senso ce l'hanno fatta? Questi studenti vivono qui!» Grover deglutì. «Sì, signore. Certo. Volevo solo dire che sono felice che ce l'abbiano fatta a... preparare il punch per il ballo. È fantastico!» Il dottor Thorne ci scrutò. Uno dei due occhi doveva essere finto, decisi. Quello marrone? Quello azzurro? Sembrava che morisse dalla voglia di scagliarci giù dalla torre più alta del castello. Ma poi, la signora Gessette intervenne con voce trassognata. «Sì, il punch è ottimo! Ora sbrigatevi tutti quanti! E non uscite più dalla palestra!» Non ce lo facemmo ripetere due volte. Ce ne andammo approfondendoci in una serie di «Sì, signora» e «Sì, signore!» e un paio di saluti militari, solo perché sembrava la cosa giusta da fare. Grover ci guidò in fretta e furia in fondo all'atrio, in direzione della musica. Mi sentivo gli occhi degli insegnanti puntati addosso, ma mi avvicinai a Talia e le chiesi a bassa voce «Come hai fatto a materializzare quella roba con lo schiocco delle dita? Vuoi dire la foschia? Chirone non ti ha ancora mostrato come si fa?» Mi salì uno sgradevole groppo in gola. Chirone era il nostro direttore delle attività al campo, ma non mi aveva mai mostrato niente del genere. «Perché a Talia sì e a me no?» Grover ci incalzò verso una porta con la scritta «Palestra sul vetro». «Sono dislessico, ma almeno a leggere quello ci arrivavo». «C'è mancato poco!» esclamò. «Grazie agli dèi siete arrivati!» Annabeth e Talia lo abbracciarono. Io mi limitai a dargli il 5. Era bello rivederlo dopo così tanti mesi. Era diventato un po' più alto e gli era spuntato qualche pelo in più sulla faccia, ma per il resto aveva il solito aspetto di quando si faceva passare per umano. Un berretto rosso sui riccioli castani per nascondere le corna caprine, jeans larghi e scarpe da ginnastica con i piedi finti, per nascondere gli zoccoli e le zampi irsute. Portava una maglietta nera che impiegai qualche secondo a leggere. Diceva «Westover Hall, recluta». «Allora, qual è l'emergenza?» chiesi. Grover fece un respiro profondo. «Ne ho trovati due». «Due mezzo sangue!» chiese Talia, stupita. «Quì!» Grover a noi. Trovare un mezzo sangue era già un evento raro. Quell'anno, Chirone aveva costretto i satiri a fare gli straordinari e li aveva sguinzagliati a caccia di possibili reclute per tutto il paese, a setacciare le scuole dalla quarta elementare alle superiori. Erano tempi disperati. Il campo stava perdendo molti ragazzi. Ci servivano tutti i nuovi guerrieri che potevamo trovare. Solo che non c'erano chissà quantissimi dei in giro per il mondo. «Fratello e sorella», continuò lui, «di dieci e dodici anni. Non so chi siano i loro genitori, però sono forti. Ma non abbiamo più molto tempo. Ho bisogno di aiuto. Mostri?» «Uno». Grover sembrava nervoso. «E sospetta qualcosa. Non credo che ne sia ancora certo, ma oggi è l'ultimo giorno del trimestre. Sono sicuro che non permetterà loro di lasciare la scuola senza prima accertarsene. Potrebbe essere la nostra ultima occasione. Ogni volta che cerco di avvicinarli, lui me lo impedisce. Non so che fare». Grover guardò Taglia con un'espressione disperata. «Cercai di non restarci troppo male. Una volta, Grover guardava a me per avere delle risposte, ma ora Taglia contava di più. Non solo perché suo padre era Zeus. Lei aveva più esperienza di tutti noi nel combattere i mostri nel mondo reale. «Va bene», disse. «Questi mezzosangue sono al ballo?» Grover annui. «Allora balliamo», concluse Taglia. «E chi è il mostro?» «Oh!» esclamò Grover e si guardò attorno innervosito. «Lo avete appena incontrato. Il vicepreside, il dottor Thorne». La cosa strana delle scuole militari è che i ragazzi vanno su di giri quando c'è un evento speciale e hanno il permesso di togliersi l'uniforme. Tutto è talmente rigido per il resto del tempo che, secondo me, hanno bisogno di recuperare. C'erano palloncini rossi e neri sparsi per tutto il pavimento della palestra e i ragazzi li prendevano a calci e se li tiravano in faccia o cercavano di strangolarsi a vicenda con i festoni di carta crespa appesi alle pareti. Le ragazze circolavano a gruppetti, come sempre, con quintali di trucco sulla faccia, top con le spalline sottili, pantaloni colorati e scarpe simili a strumenti di tortura. Ogni tanto assediavano un poveretto come un banco di piragna, in un coro di gridolini risatine, e quando alla fine si allontanavano, il tizio si ritrovava con nastri nei capelli e graffiti di rossetto su tutto il viso. Alcuni dei ragazzi più grandi mi somigliavano di più. Si aggiravano imbarazzati ai bordi della palestra e cercavano di nascondersi, come se da un minuto all'altro potessero ritrovarsi a combattere un duello mortale. Naturalmente, nel mio caso era vero. Eccoli lì. Grover indicò con un cenno un paio di ragazzi più piccoli che litigavano sulle gradinate. Bianca e Nico di Angelo. La ragazzina indossava un cappello verde e floscio, come per nascondersi il viso. Il maschio era chiaramente suo fratello. Avevano i capelli neri e lucidi e la pelle olivastra, e gesticolavano parecchio mentre parlavano. Il ragazzino stava mescolando una specie di mazzo di carte da collezione. La sorella lo stava rimproverando, o almeno così sembrava. Continuava a guardarsi attorno come se percepisse qualcosa di strano. «Loro lo... cioè, gliel'hai detto?» chiese Annabeth. Grover scosse la testa. «Sai come funziona. Saperlo potrebbe metterli in pericolo. Quando si rendono conto di chi sono, mandano un odore più intenso. Annui. Non avevo mai capito davvero di cosa odorassero i mezzosangue per i mostri e i satiri, ma sapevo che quell'odore poteva farti ammazzare. E più diventavi potente, più profumavi come uno spuntino per mostri. «Allora prendiamoli e andiamocene», conclusi. Feci per avviarmi, ma Talia mi mise una mano sulla spalla. Il vicepreside, il dottor Thorn, era sbucato da una porta delle gradinate e si era piazzato vicino ai fratelli di Angelo. Ci salutò freddamente con un cenno. L'occhio azzurro sembrò scintillare. A giudicare dalla sua espressione, intuì che il trucco della foschia d'Italia non lo avesse ingannato per niente. Sospettava di noi. E stava solo aspettando di capire perché fossimo lì. «Non guardate i ragazzi», ordinò Talia. «Dobbiamo aspettare l'occasione giusta per avvicinarli. Bisogna fingere che non ci interessino. Depistarlo. Come? Siamo tre potenti mezzosangue. La nostra presenza dovrebbe confonderlo. Mescolatevi agli altri. Comportatevi con naturalezza. Ballate, ma tenete d'occhio qui i ragazzi». «Ballare?» domandò Annabeth. Talia annui. Tese l'orecchio alla musica e fece una smorfia. «Chi ha scelto Jess McCartney?» Grover sembrò ferito. «Io...» «Santi numi, Grover!» «Che idiota! Non potevate mettere, che so, i Green Day o roba del genere?» «I Green Key?» «Lasciamo perdere. Balliamo». «Ma io non so ballare!» «Sì, se conduco io», insistette Talia. «Muoviti, ragazzo capra!» Grover emise un gemito quando Talia gli afferrò la mano e lo trascinò sulla pista da ballo. Annabeth sorrise. «Che c'è?» chiesi. «Niente. Solo che è bello avere di nuovo Talia con noi». Annabeth era diventata più alta di me rispetto all'ultima estate. E la cosa mi seccava un po'. Una volta non indossava gioielli, a parte la collana con le perle del campo mezzosangue, ma adesso portava due piccoli orecchini d'argento a forma di gufo, il simbolo di sua madre, Atena. Si sfilò il berretto di lana e i lunghi capelli biondi le ricaddero sulle spalle. Chissà perché, così sembrava più grande. Allora mi sforzai di trovare qualcosa da dire. «Comportatevi con naturalezza», ci aveva detto Talia. «Ma per un mezzosangue in una missione pericolosa, che accidenti voleva dire?» «Ehm... hai progettato qualche bel edificio ultimamente?» Gli occhi di Annabeth si illuminarono, come succedeva sempre quando parlava di architettura. «Santi numi persi! Nella mia nuova scuola sono riuscita a farmi dare design 3D come materia facoltativa e c'è un programma al computer che...» Continuo a parlare, spiegando come avesse progettato questo enorme monumento per Ground Zero, a Manhattan. Parlava di sostegni strutturali e facciate e robe del genere e io mi sforzavo di seguire. Sapevo che da grande voleva diventare un superarchitetto, adorava la matematica, gli edifici storici e compagnia bella. Ma non capivo una parola di quello che diceva. La verità è che ero un po' deluso di sapere che la nuova scuola le piacesse così tanto. Era la prima volta che ne frequentava una a New York. Avevo sperato di vederla più spesso. Era un collegio di Brooklyn e ci andavano sia lei che Talia, sufficientemente vicine al campo mezzosangue perché Chirone potesse intervenire in caso di guai. Siccome era una scuola femminile e siccome io andavo alla MS 54 di Manhattan, non le vedevo quasi mai. Già, forte, commentai. Così rimarrai là per il resto dell'anno, eh? Si scurì in viso. Beh, forse, se non... Ehi, ci chiamò Talia. Stava ballando un lento con Grover, che incespicava di continuo, rifilandole dei calci negli stinchi. Aveva l'aria di voler sprofondare, ma almeno lui aveva i piedi finti. A differenza di me, aveva una buona scusa per la sua goffaggine. Ballate, ragazzi! Ordinò Talia. Sembrate due stupidi a starvene lì impalati. Con un certo nervosismo, guardai prima Annabeth e poi le ragazze che vagavano per la palestra. Allora? Fece lei. Ehm... A chi dovrei chiederlo? Mi diede un pugno nello stomaco. A me, testa d'alghe. Oh! Oh, giusto! Così, entrammo in pista e allungai lo sguardo per vedere come facevano Talia e Grover. Misi una mano sul fianco di Annabeth e lei mi afferrò l'altra come per scaraventarmi a terra con una mossa di judo. Non mordo, mi disse. Sul serio, Persi. Ma non ci sono i balli nella tua scuola? Non risposi. A dire la verità, c'erano. Ma io, ecco, ci andavo e non ballavo. Di solito, ero uno di quelli che giocavano a basket in un angolo. Continuammo a strascicare i piedi per qualche minuto. Provai a concentrarmi su cose insignificanti, tipo i festoni di carta crespa e la zuppiera del punch. Tutto, tranne il fatto che Annabeth fosse più alta di me e che avevo le mani sudate e probabilmente viscide e che continuavo a pestarle i piedi. Che stavi dicendo prima? Le chiesi. Hai qualche problema a scuola? Lei storse la bocca. La scuola non c'entra. È mio padre. Oh, oh! Sapevo che Annabeth aveva un rapporto difficile con il padre. Pensavo che andasse meglio fra voi. C'entra ancora la tua matrigna? Annabeth sospirò. Ha deciso di trasferirsi. Proprio adesso che cominciavo a sentirmi a casa a New York, lui prende e decide di accettare questo nuovo lavoro di ricerca per un libro sulla Prima Guerra Mondiale. A San Francisco. Lo disse nello stesso modo in cui avrebbe detto Campi della Pena. O Pantaloncini di Ade. Così vuole che ti trasferisca laggiù insieme a lui? Chiesi. Dall'altra parte del paese, confermò, afflitta. E i mezzosangue non possono vivere a San Francisco. Dovrebbe saperlo. Cosa? E perché no? Annabeth alzò gli occhi al cielo. Forse pensava che scherzassi. Lo sai, è proprio lì. Oh, risposi. Non avevo idea di cosa stesse parlando, ma non volevo fare la figura dello stupido. Così tornerai a vivere al campo o... La faccenda è più seria di così, Persi. Io, ecco... Probabilmente dovrei dirti una cosa. Si bloccò. Sono spariti. Cosa? Seguì la direzione del suo sguardo. Le gradinate. I due mezzosangue, Bianca e Nico, non c'erano più. La porta accanto alle gradinate era spalancata. Il dottor Thorn non si vedeva da nessuna parte. Dobbiamo avvertire Taglia e Grover! Annabeth si guardò freneticamente in giro. Oh, ma dove si sono cacciati? E dai! Corse in mezzo alla folla. Stavo per seguirla, ma un folto gruppetto di ragazze mi sbarrò la strada. Riuscì ad aggirarle e a evitare il trattamento Nastrini e Rossetto, ma una volta libero, Annabeth era scomparsa. Mi girai intorno alla ricerca di Taglia e Grover. E quello che invece vidi... Mi gelò il sangue. A una quindicina di metri da me, sul pavimento della palestra, c'era un berretto verde-floscio, tale e quale a quello che indossava Bianca di Angelo, con delle carte sparpagliate accanto. Poi, intravidi il dottor Thorn. Stava uscendo da una porta in fondo alla palestra, trascinando i fratelli di Angelo per la collottola, come gattini. Non riuscivo ancora a vedere Annabeth, ma sapevo che si era incamminata nella direzione opposta, per cercare Taglia e Grover. Stavo per correrle dietro, però poi riflettei. Aspetta. Ricordai quello che mi aveva detto Taglia nell'atrio e la sua faccia perplessa quando le avevo chiesto del trucco della foschia. Chirone non ti ha ancora mostrato come si fa? Pensai al modo in cui Grover l'aveva guardata, aspettandosi che fosse lei a salvare la situazione. Non è che Taglia non mi piacesse. Era forte. Non era colpa sua se era la figlia di Zeus e riceveva tutte le attenzioni. Ma non avevo bisogno di correre da lei per risolvere tutti i problemi. E poi, non c'era tempo. I di Angelo erano in pericolo e potevano essere spariti da un pezzo quando sarei riuscito a trovare i miei amici. Conoscevo i mostri. Potevo cavarmela da solo. Mi sfilai vortice dalla tasca e corsi dietro al dottor Thorn. La porta dava su un corridoio buio. Udì il rumore di una zuffa poco più avanti, poi un gemito di dolore. Tolsi il cappuccio a vortice. La penna si allungò nelle mie mani finché non impugnai una spada di bronzo greca, lunga a circa un metro, con l'elsa rivestita di cuoio. La lama mandò un debole bagliore, gettando una luce dorata sulle file di armadietti. Avanzai con una corsetta rapida e leggera, ma quando arrivai in fondo al corridoio non c'era nessuno. Aprii una porta e mi ritrovai di nuovo nell'atrio principale, però dalla parte opposta rispetto a prima. Non vedevo il dottor Thorn, ma lì, in fondo alla stanza, c'erano i fratelli di Angelo. Erano pietrificati dall'orrore e mi fissavano. Mi feci lentamente avanti, abbassando la punta della spada. Va tutto bene? Non voglio farvi del male. Non mi risposero. Avevano gli occhi pieni di paura. Che gli aveva preso? Dov'era il dottor Thorn? Forse aveva avvertito la presenza di vortice e si era allontanato. I mostri odiavano le armi di bronzo celeste. Mi chiamo Percy, dissi cercando di mantenere la voce calma. Vi porterò fuori di qui, in un posto sicuro. Bianca sgranò gli occhi. Strinse i pugni. Ma quando capì il significato del suo sguardo, era troppo tardi. Non aveva paura di me. Stava cercando di affisarmi. Mi voltai e qualcosa fece uish! Un'affitta di dolore mi esplose nella spalla. Una forza simile a una mano enorme mi strattonò indietro e mi scaraventò contro il muro. Menai dei fendenti con la spada, ma non c'era niente da colpire. Una risata gelida riecheggiò nell'atrio. «Sì, Perseus Jackson», disse il dottor Thorne. Il suo accento storpiò la J del mio cognome. «So chi sei». Cercai di liberare la spalla. Il giaccone e la camicia erano attaccati al muro con una specie di grosso chiodo. Un proiettile nero, simile a un pugnale, lungo una trentina di centimetri. Mi aveva scalfito la spalla attraversando la stoffa e la ferita bruciava. Avevo già provato qualcosa del genere in passato. «Veleno». Mi obbligai a concentrarmi. Non avevo nessuna intenzione di svenire. Una sagoma scura avanzò verso di noi. Il dottor Thorne entrò nella luce fioca. Sembrava ancora umano, ma aveva un volto spaventoso. I denti erano candidi e perfetti e gli occhi bicolore riflettevano la luce della mia spada. «Grazie di essere uscito dalla palestra», disse. «Odio i belli delle medie». Cercai di nuovo di colpirlo con la spada, ma era fuori dalla mia portata. «Wish!» sfrecciò un altro proiettile, partendo da qualche parte alle sue spalle. Il dottor Thorne non sembrava essersi mosso. Era come se dietro di lui ci fosse un lanciatore di coltelli invisibile. Accanto a me, Bianca strillò. Il secondo aculeo si infilzò nel muro di pietra, a un centimetro dalla sua faccia. «Ora, verrete tutti e tre con me», annunciò il dottor Thorne. «In silenzio, da bravi. Se fate il minimo rumore, chiamate aiuto o ponete resistanza. vi mostrerò quanto è precisa la mia mira. che ti fai la mia vita». Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti